Nel cuore di Genova, la profumeria Sbraccia propone un mondo dedicato interamente alla bellezza. Il punto vendita, organizzato su più livelli, offre un ricco assortimento di articoli di cosmetica e profumeria, prodotti per capelli, igiene personale, nail art e make-up. L'ampia selezione include brand di prestigio, accuratamente selezionati e capaci di garantire prestazioni di qualità. Lo staff competente e costantemente formato è a vostra completa disposizione e saprà consigliarvi il trattamento perfetto per qualsiasi esigenza. Inoltre, il negozio è un punto di riferimento per il lancio di nuovi prodotti, eventi e beauty party dove approfondire le novità di settore e scambiarsi idee sempre nuove. Profumeria Sbraccia, l'eccellenza per la tua bellezza. Scopri la sede Sbraccia di Via Ceccardi a Genova. Troverete articoli di qualità e consigli di bellezza. Grazie. 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 Grazie.